Le Olimpiadi saranno un trampolino di lancio importante ed è ora di mettere da parte i dubbi in merito. È la presa di posizione del presidente della regione Luca Zaia a margine della cerimonia di riapertura della chiesa di San Martino a Valle di Cadore. Negli ultimi mesi si sono alzate diverse voci critiche riguardo le scelte relative alla pista di Bob, la collocazione del villaggio atleti e in generale una serie di investimenti legati al grande evento. Zaia però respinge l'idea che queste Olimpiadi possano rappresentare uno spreco di energie e risorse. Le Olimpiadi saranno seguite da 3 miliardi e mezzo di cittadini del mondo. Saranno l'occasione di una massima visibilità non solo di Cortina ma di tutte le Dolomiti. Penso che chi ancora non avesse capito lo capirà col tempo, c'è sempre qualcuno che arriva più tardi nel capire le robe. L'abbiamo dimostrato col sito patrimonio umanità del Prosecco che oggi vede i parcheggi di ristoranti e alberghi con tutte auto straniere e sarà anche qui così un nuovo rinascimento per la montagna veneta, non squisitamente solo cortinese. Diamo una risposta a quelli che amano stare sempre fuori dai cantieri con le mani dietro, incrociate dietro alla schiena e a guardare e a giudicare. Se non avessi portato avanti questa mia idea di candidare Cortina e le nostre Dolomiti alle Olimpiadi, oggi non parleremo di varianti di Longarone, non parleremo di varianti di Cortina, non parleremo del recupero del trampolino di Cortina, della nuova arena all'aperto sempre vicino al trampolino, non parleremo del palazzetto del ghiaccio, non parleremo di tutto quello che sono i lavori sulle piste, del recupero della pista di Bob e di molto altro ancora. Per dire cosa? Per dire che le Olimpiadi sono una grande opportunità per fare quello che mai avremmo potuto fare.